Buongiorno, bollettino meteo, è veramente freddo, troppa sabbia, troppa acqua, troppo tutto. A colazione. Ah, top. Di colazione è questa, Erné? Dei campioni. Dei campioni? Tu hai fatto campioni di programma? Io ho mangiato... Mi manchi tu. VVV, Malibu, Malibu. Merdila. VVV, Malibu. Malibu, FV, Malibu. Anche questa settimana, grandissime vincite su Bidu. iPhone venduto 3,70 euro con 50 puntate utilizzate, non solo. 6 bottiglie di Moet Shandong, 23 euro, 1000 puntate. Potete trovare tante sezioni, questa è la luxury, guardate che lavoro. Pronti a puntare? Io vi lascio 10 puntate gratuite, iscrivetevi facendo Swipe Up. Guardate che telo da amare. Top. Cappellino. Costumino. Swipe Up. www.carlettolife.com Quando vedo questi paesaggi, potrebbe ispirare una canzone. quello gioca in Serie A, io veramente posso fare la Champions League a mani bassi. Guarda, guarda. Guarda le gambe di legno. Pinocchio. Erné. Chiacchiere basta, guarda. Ah, tipico pranzo delle 6 del pomeriggio. Benissimo. Benissimo. Che spettacolo, ragazzi. Questa è Ibiza. Oggi non ho ricevuto notizie su Capitana Tsubasa, cioè. Pensavo qualcuno mi informasse quello che era successo. Ero preoccupato perché si è infortunato. Bah. Fatemi sapere per fortesia. Chi l'ha visto? Il più bello. Che spettacolo. Eccolo, ragazzi. Il DC-10. Che io andavo da quando per terra c'era la breccia. I Sassonini. Adesso l'hanno rifatto. Tutto, c'è tutto tipo il parquet. Una volta c'era la breccia, raga. Che tempi. La prima foto che ho postato con me. Su sta panza, sta panza. Ma uno che dice sempre. Sta pieno. Come deve sta? Voto? Io so pieno. So pieno dentro. Perché c'ho tanto dentro. Tanto da dare. Quindi. Lui mi ha detto anche nano. Sono un nanetto ciccione. Però nella vita non bisogna essere alti. Ma all'altezza. Ricordatevelo sempre. Tanto. Questo tramonto con lampione è top. Matchi, matchi. E ho prenotato su un posto veramente fantastico. Proprio lì. Eh sì. Oggi sì. Che bel lavoro che hanno fatto su questo Burger King. È incredibile. Guarda. Top. La carne è pazzesca. Entragna. E usciva. Entragna. E usciva. La domanda è. Sta mai a Ibiza o a Cortina? Guardate. Cuperta. Giacca mia. È una timidona lei. Ecco. Ah.